Bentornati a Economy Up. Gli italiani risparmiano molto, come ci ha ricordato il servizio di apertura. La nostra ricchezza finanziaria è di circa 4 mila miliardi di euro. Una montagna di soldi da investire, magari dimenticando la mattonella di Totò e Peppino e avvalendosi di sistemi più evoluti. A livello globale c'è un grandissimo interesse verso il cosiddetto robot advisory, cioè la consulenza finanziaria basata su algoritmi, su sistemi digitali. Gli venture capitalists stanno investendo milioni di dollari su start-up che fanno questo tipo di lavoro e secondo un'analisi di siti, da qui ai prossimi 10 anni i soldi gestiti col robot advisory saranno 5 mila miliardi, cioè 5 trilioni di dollari. Davvero una montagna di soldi.